L'ospedale Misericordia e Dolce, la sua piazza appena restaurata, le celle di clausura dell'antico convento del Conservatorio San Nicolò e la Villa del Barone a Montemurlo sono bellezze artistiche che sarà possibile visitare questo fine settimana grazie alla 25esima edizione delle giornate fa e di primavera. Pensate per scoprire e valorizzare luoghi sconosciuti e spesso inaccessibili. Stamani la presentazione. I volontari sono i nostri apprendisti ciceroni, i ragazzi delle scuole, liceo Convitto Cicognini, liceo scientifico San Nicolò, liceo artistico Brunelleschi. Questo per noi è un fiore all'occhiello perché i ragazzi se imparano fin da giovane ad ammirare il bello poi daranno un futuro al nostro passato. Per gli iscritti FAI l'inizio dei festeggiamenti è anticipato al 24 marzo quando si apriranno le porte di Palazzo Pretorio per ammirare le opere donate dal Misericordia e Dolce compresa l'antica spezieria. Cosa vedremo a Montemurlo? A Montemurlo vedremo quel manufatto storico che è sicuramente il manufatto più importante del territorio di Montemurlo che è la Villa del Barone. Riuscire a portare tanta gente sulla Villa del Barone non è facile. Per questo abbiamo organizzato un servizio navetta che partiranno dalle piazze più importanti di Montemurlo che sono Piazza Don Milano, Piazza della Costituzione e Piazza Bini a Bagnolo. Poi ci sarà anche la possibilità di fare una passeggiata perché chi vorrà arrivare alla Villa del Barone a piede lo può fare dal borghetto grazie al contributo che dà il gruppo trekking. Riusciremo a portare un po' di gente anche a piedi su alla Villa del Barone.